Eleganza, forza, armonia, ritmo e coordinazione. Tutto questo è la ginnastica e danza SportZone a Sala Consilina. Corsi di ginnastica ritmica, gioco danza, danza classica, moderna e hip hop, rivolte a bambine e ragazze a partire dai 4 anni. Tutti i corsi sono tenuti da tecnici federali e istruttori qualificati e prevedono la partecipazione ai campionati federali, regionali e nazionali. SportZone e anche corsi di fitness per adulti, programmi su misura per mantenersi in forma nell'area cardio e sala attrezzi. Inoltre scuola calcio affiliata a Milan Academy per bambini dai 4 anni. La palestra per stare in forma e divertirsi è SportZone a Sala Consilina, in via Luigi Sturzo 247.